Musica Cari amici ben ritrovati, eventi del territorio questa sera è a Val Dobbiadre una puntata particolare perché siamo ospiti, graditissimi ospiti del Lions Club di Val Dobbiadre e abbiamo qui il piacere di avere vicino a noi il presidente Gianni Di Bortoli Gianni una serata particolare, ti lascio dire a te tutto il titolo non prima però di averci spiegato cosa è il Lions Club e cosa fa il Lions Club qui a Val Dobbiadre Allora grazie Luigi, allora i Lions cosa sono? Sono delle persone normali, non hanno niente di eccezionale se non una scelta di vita mettere a disposizione dei più bisognosi le proprie competenze, le proprie conoscenze quanto di meglio la vita gli ha saputo donare in termini anche di fortuna questa è l'etica nostra del lionismo nel mondo siamo circa un milione e mezzo nel mondo come decliniamo qui a Val Dobbiadre questa scelta, una scelta di vita e una scelta morale? con i service, abbiamo intuito quest'anno che è la mia annata diciamo che è importante la cultura sotto tutti i punti di vista abbiamo aiutato gli asili, come? con un gioco, educazione stradale, fin da bambini impariamo a muoversi in maniera corretta all'interno delle nostre città abbiamo aiutato i giovani, quelli più grandicelli, quelli delle scuole superiori non solo con due borse di studio dedicati ai giovani usciti dalle superiori che si dedicano alla vita sociale e hanno successo anche nella propria carriera universitaria ma anche istituendo quest'anno un service che abbiamo intitolato Adotta un'arnia che vuol favorire i ragazzi dell'agraria, quindi di Val Dobbiadene affinché si formino e siano formati in maniera corretta ed opportuna sull'apicultura l'ape come segnale di salubrità del nostro luogo questa è l'iniziativa culturale e sempre sull'orma dell'iniziativa culturale, questa sera sulle orbe del lupo una serata che hai ribadito tu fin dall'inizio vuole essere solo una serata di conoscenza socioculturale dell'animale lupo, senza creare polemiche esattamente, l'intento che credo, visto anche il successo della serata e i tanti partecipanti e i tanti e bei interventi mirati voleva dare questo, un'informazione corretta spesso siamo di fronte a delle notizie eclatanti che non corrispondono al vero questa sera abbiamo voluto mettere a disposizione della cittadinanza di Val Dobbiadene di quanti ci hanno seguito, i migliori esperti attualmente nel settore migliori esperti che lo studiano da tempo, che raccolgono dati da tutta Europa abbiamo visto, confrontandosi con tante realtà diverse per fare del lupo un'affascinante bestia selvatica che va studiata, che va capita, che va preservata, che va monitorata in un certo modo non è detto che dobbiamo continuare così lo ha ribattito la dottoressa Calderola la normativa è vecchia, ormai di 50 anni va rivista certamente nell'interesse di tutti in primis nell'interesse del lupo grazie a tutti